Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Angolo del Lupacchiotto. Quest'oggi torniamo in trasmissione dopo ben due partite del nostro Cosenza, chiuse altrettanto con i tre punti in tasca. La vittoria di Perugia al Renato Curisabato è appunto la vittoria casalinga di ieri contro il Carpi. A Perugia è stata una partita tutto sommato godibile, decisa da un episodio, ossia il rigore di Bruccini, in cui il Cosenza non ha rischiato praticamente niente difensivamente, a parte l'espulsione di Termaco al 92esimo. Invece la partita che ovviamente andrò ad analizzare con molta più ricchezza di particolari è quella di ieri sera con il Carpi. Partita dove mi è piaciuta la prestazione di tutta la squadra, ogni singolo giocatore ha giocato bene. Il Cosenza che ha attaccato per 60 minuti, poi ovviamente è normale chiudersi perché giocare a quei ritmi per 90 minuti è letteralmente impossibile a livello fisico. Comunque abbiamo attaccato, abbiamo segnato nel primo tempo, Tutino è tornato a gol e sono felice per lui. Inoltre c'è da considerare anche un fattore, perché adesso è diventato un vero e proprio fattore, ossia la sfortuna. Perché se ci facciamo caso sono cinque partite di fila che tra infortuni a gara in corso e espulsioni non riusciamo mai ad avere l'undici titolare al completo. Infatti tutta la squadra non è mai stata al completo in queste ultime giornate, quindi si spera e ovviamente oltre a sperarsi potremo vedere in un futuro prossimo quali saranno gli effetti di questa squadra, già molto bene come stiamo giocando, quali saranno gli effetti di avere gli undici titolari pronti e che giocheranno tutti insieme. Perché appunto tra infortuni, vedete il crociato rotto di corsi e Idda che sta fuori un mese, oppure squalifiche, vediamo l'espulsione di Tremaco a Perugia, non siamo mai stati al completo. Appunto, quindi io sono curioso di vedere la nostra squadra al completo e vorrei fare i complimenti a Perina, non solo per la partita di ieri ma per tutto quello che sta facendo perché si è riguadagnato con costanza, sudore, impegni e sacrificio quello che l'anno scorso ha perso per causa di alcune prestazioni negative nella prima parte di stagione. Perina che quest'anno è stato protagonista di una vera e propria scalata in quanto è partito da terzo portiere e non solo è diventato primo portiere ma è diventato anche inamovibile nello scacchiere degli undici titolari di Braia a suon di prestazioni positive dove spesso ha salvato le partite. Vedete ieri il rigore parato al 95esimo a Marsura. Dando occhio agli altri risultati ci sono stati appunto dei risultati molto sorprendenti e inaspettati come per esempio il Palermo che ha perso per 3 reti a 0 all'uscita di Crotone e ha lasciato il secondo posto praticamente al Benevento che è giustiziere del Pescara. Il Brescia capolista invece guante il pareggio solo al 95esimo all'Euganeo di Padova mentre nel big match di giornata il Lecce batte il Verona per 2 reti a 1 e si riscatta dopo la sconfitta di sabato per 4 reti a 1 a Cittadella e supera appunto la squadra di Fabio Grosso in classifica. Settimana prossima andremo a giocare a Foggio giocheremo di venerdì la prima partita che quest'anno giocheremo appunto in anticipo serale del venerdì una squadra che assolutamente non va sottovalutata come magari potrebbe dire la classifica infatti il Foggio in zona play out ma io non la sottovaluterei perché onestamente è una squadra che ti può mettere in pericolo e può crearti occasioni da gol in qualunque momento quindi serve mantenere ben alta la guardia e giocare al massimo delle possibilità per provare a tornare a Cosenza con punti in tasca punti molto utili in ottica salvezza dico salvezza perché il nostro obiettivo è sempre salvarci anche se ormai siamo un punto dai play off e 10 punti dai play out quindi dobbiamo guardarci sopra comunque ci sta pensare che l'obiettivo è la salvezza perché in realtà l'obiettivo è quello e tu devi lottare per quello poi come ho già ripetuto molte volte se ci salviamo se saremo bravi a salvarci con giornate di anticipo potremmo pensare l'aggancio ai play off altrimenti ovviamente non cambierà nulla per noi detto questo io vi saluto vi rinnovo l'appuntamento con Lupi si nasce per la prossima puntata dove dopo la partita appunto di Foggia e appunto vi mando un caloroso saluto forza Lupi sempre e noi ci vediamo settimana prossima ciao